ho fatto tutte le domeniche, ah no, è molto breve, in mezzo di brutus leggo, questo è molto lungo e quindi a un certo punto è stato tagliato. Allora, ho fatto una battuta, non basta, lo serve, ma è un indicativo di un muoto, quando ho visto questa storia, non è chiaro, questo argento, questo taglio è molto affatto, è testimone di Geova, mi sono detto io, è testimone di Geova che è tagliato a questo punto, ho detto anche a cosa in Italia, se quelli che hanno tagliato le fure, perché in questi modi di Geova? Perché finisce proprio nel punto in cui si sarebbe dovuto forse mai, allora, vinto a poco, per aiutare un prezzo, questo è di tutto per me, non si può spiegare perché non si sa, è vero che non fanno, ma non si può spiegare, però in più dovuto per me, e poi anche per voi, per comprendere, il dottore ha compreso, per praticare, come diceva, come diceva, a proposito di difficoltà, questa pagina diceva, considera troppo, ma guarda in tutto, confermati, salvatore ha compreso, allora mi permette di fare presto, di conlucare, questo regente che abbiamo letto, nel suo contesto, di rigiamare il contesto in cui si trova, ed è il contesto del capitolo 24 e 25 dell'angelo secondo Matteo, sempre una cosa bella, se avete un po' di tempo a disposizione, tornate in una cosa vostra, e vi prendeste il testo dell'angelo secondo Matteo, e andate a reggere il capitolo 24 dell'angelo secondo Matteo, che dico adesso tempo, sommariamente, di riaspugare, e Matteo dice, Gesù gli dice, ecco, salivano verso il tetto, siamo da fine, già dopo la, siamo l'ultima settimana di vita di Gesù, salivano verso il tetto, e i discepoli dicono, Gesù, guarda che bello spettacolo, che bello colore, e Gesù dice, di questo, non rimane la pietra seguita, tutto sarà di saluto, e poi Gesù incomincia a parlare, e parla di una serie di argomenti, sono parecchi, di cui questo, che abbiamo letto, è uno, ma non è il primo, la prima cosa in cui Gesù parla è la rovina di Gerusalemme e la distruzione del tetto, la qualcosa si è puntualmente avverrata nell'anno 70, ma Gesù passa insensibilmente dalla fine di Gerusalemme storico, per cui loro si trovavano, alla fine del mondo, prima della fine di Gerusalemme, poi della fine del mondo, ma il passaggio del testo non è chiaro, è più lungo, il passaggio non è chiaro, anzi, mi è reso più problematico con la pratica, tutte le voce facendo, le mie parole non passeranno, ci sarà questa generazione, quindi la gente di questa generazione, che diceva, erano i contemporanei di Gesù, allora la conseguenza è questa, Gesù pensava, la fine del mondo, sarebbe avvenuta subito, oppure questa generazione vuol dire anche, se sto soltanto alla pagina di Vangelo che ho letto, che abbiamo letto, non si risponde, se non diventano complicati, ma il versetto dopo, come poi mi ho avviato, dice, il giorno e l'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli, neppure i figli, non si intende il figlio, ma solo i guardali, noi non possiamo ammanaccare, su quanto, la fine del mondo, e gli angeli, e il figlio non lo sanno, abbiamo ragione di saperlo noi, siamo liberi, però siamo anche anticipatamente garantiti, garantiti che le nostre, e le recuperazioni, non hanno fondamenti, prima cosa, domina di Gesù, sarebbe, seconda, la fine del mondo, ma poi, Matteo, continua, con il 24, del capitolo, nel 4, del capitolo, del capitolo, del capitolo, vi sarà la seconda, per l'unità di Cristo, che viene chiamata, spesso viene chiamata, nell'angelo, il figlio dell'uomo, questo è un titolo, che è il Vangelo, che viene dato a Gesù, sul quale si, i suoi contemporanei, contestavano, perché Gesù, rivedicava, se ne trovi figli dell'uomo, cosa vuol dire, figli dell'uomo, tutti noi, siamo figli dell'uomo, il nostro padre era un uomo, e poi siamo figli dell'uomo, però, nel Nuovo Testamento, la parola, il figlio dell'uomo, si infelisce, alla visione di Daniela, capitolo nonno, nel profeta Daniele, se non lo vedete, è una visione di Daniele, il quale ha visto, il figlio dell'uomo, che era preso, e portato, sulle nuove, del cielo, ed era assiso, accanto alla potenza, di Dio, quindi, era un personaggio, che era impossibile, come lo immaginava, che veniva, che veniva, come la natura, nella sfera del divino, e giudicava, il mondo, quando Gesù dice, il figlio dell'uomo, usa, una nozione, più, da, il figlio dell'uomo, un uomo, quotidiano, oppure, il figlio dell'uomo, di cui ha parlato Daniele, e sarà la sua seconda venuta, la prima venuta, potente, 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 la seconda, avverrà, nel fallibile, tra il tempo, e l'eternità, nella morte, in questa, e l'eternità,